Musica Salve e benvenuti a una nuova edizione del TG di Correnti TV. Nella notte di lunedì 3 ottobre, i gnoti hanno compiuto un furto ai danni del bar Fashion Café, il servizio di Andrani Eddu. Siamo all'interno della sala giochi del bar Fashion Café, dove questa notte sono entrati dei ladri ed hanno asportato tante cose. L'orario ancora non è stato precisato, però il furto è avvenuto in nottata. Per entrare i ragazzi o i ladri hanno dovuto allargare le sbarre della finestra retrostante, appunto il bar. Due slarghi abbastanza piccoli che possono far intuire che chi è entrato era molto snello. Poi con le due sedie che appunto vedete qui sono entrati dentro il bar. Ad accorgersi del furto è stata la ragazza che questa mattina appunto alle 6 è andata ad aprire il bar. È dovuto avvisare subito il proprietario che è appunto verificato il tutto. Infatti si sono portati via, come appunto potrete vedere, due computer che appunto andavano in online per i giochi, 1000 euro dalla macchina cambia soldi e poi ancora quelli all'interno delle slot machine. Ancora una volta quindi una banda ben organizzata ha messo in ginocchio un'attività che con tanti sacrifici ha messo su. Il proprietario non parla ma è disarmato su quello che è successo anche perché non ha avuto nessun segno che da parte di nessuno che stesse appunto potesse avercela con lui. I carabinieri subito intervenuti stanno indagando e non è improbabile che abbiano intrapreso una pista giusta. Il 30 settembre ha avuto inizio un convegno di due giorni organizzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dal titolo Sanità Militare e Sanità Civile. Il servizio di Andrea Nieddu. Ufficiale e medico e questa è la doppia veste di medico militare sempre più in linea delle operazioni internazionali di peacekeeping. Per conoscere più da vicino questa realtà la FNOMCEO ha organizzato il convegno Sanità Militare e Società Civile. Il workshop di La Maddalena è stato il primo nel suo genere esordio di un dialogo tra Sanità Militare e Sanità Civile. Il confronto tra medici in camice bianco e medici in mimetica e la collaborazione tra FNOMCEO e Federazione degli Ordini della Sardegna per l'identificazione dei temi degli interlocutori dello sviluppo complessivo delle due giornate che ha portato in uno degli angoli più giustivi del Mediterraneo medici e media. Il presidente Susarello ha voluto scegliere La Maddalena per promuovere un evento regionale per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Il nostro emblema detto in questo senso è sempre stato l'isola di Caprera dove Garibaldi ha finito i suoi giorni e dove ancora si conserva la sua casa. Proprio con Garibaldi poi la medicina sarda ha vissuto un suo momento importante perché molti medici furono chiamati a confrontarsi con una sua celebre ferita. Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre si è svolta una manifestazione Caprera-Cavalli. Andrea Niedo ha seguito per noi l'evento. È stata una tre giorni all'insegna del divertimento, in particolar modo per i bambini che venerdì, sabato e domenica hanno potuto assistere alla gara degli asinelli montati da giovani preparati nel nuorese come pure al rodeo di cavalli selvatici a cura dell'associazione Rodeo Montespada. Questo avvenimento patrocinato dalla regione Comune Parco ha visto la partecipazione purtroppo di poca gente forse dovuta alla bella giornata che invitava più al mare che non alla collina. Questo è stato spettacolare per le acrobazie che hanno dovuto sostenere i cavalieri che cercavano di restare in sella il più possibile. Il cavallo, subito dopo l'uscita dal tunnel, infatti cercava subito di togliere di dosso il fantino. Anche i bambini più piccoli hanno potuto godere di una giornata meravigliosa cavalcando i poni messi a disposizione dal centro ippico Cavallamarsala di Alessandro Monni. Una manifestazione che avrebbe potuto avere maggiore affluenza di pubblico si è conclusa con la spregnazione e con un riconoscimento per tutti i cavalieri e partecipanti. La mattina di domenica 2 ottobre si svuota in piazza del Comune la giornata degli animali organizzata dall'Ente Nazionale Protezione Animali per la realizzazione di nuovi ambulatori di primo soccorso, il servizio di Silvia Chirico. Sabato 1 e domenica 2 ottobre in più di 200 piazze italiane si è svolto l'appuntamento annuale organizzato dall'EMPA la giornata degli animali con l'obiettivo di creare nuovi ambulatori veterinari per assistere tempestivamente gli animali bisognosi. I volontari dell'associazione Muniti di Banchetto hanno raccolto firme per istituire un 118 veterinario. Anche alla Maddalena, presso la piazza del Comune, era quindi possibile aderire all'iniziativa. Come ancora possibile, fino al 10 ottobre, donare 2 euro con un sms al 45 501. E anche per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.